In un mercato dove ormai tutte le macchine sono uguali, questa X-Pro3 è il segnale che forse a qualcuno piace ancora scommettere. Ragazzi, bentornati qui sul canale. Le macchine che mancano all'appello in questo 2019 ormai sono finite. E mentre ancora non sappiamo nulla della X-H2, la X-Pro3 è finalmente arrivata alle porte e sono felicissimo di averla potuta provare al day one grazie a Fujifilm Italia. Questa nuova camera arriva sul mercato con una novità che avevamo già visto nella Leica M10D, l'assenza effettiva di uno schermo posteriore. Ovviamente per la X-Pro3 il discorso è un po' diverso, lo schermo effettivamente c'è, solo che è nascosto da questo piccolo schermino da 1.2 pollici che caratterizza questa nuova camera di Fuji. Come sempre ragazzi, prima di immergerci all'interno di questo primo sguardo vi chiedo di lasciare un like, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanellina che permette di ricevere tutte quante le notifiche di quando esce un nuovo video. Ovviamente seguitemi anche su Instagram, Telegram e tutti i social che trovate in descrizione e anche Twitter che da un po' ho ripreso ad utilizzare per pubblicare leaks e rumors che escono nel corso del tempo, tipo quello della X-Pro3. Ho avuto la fortuna di poter provare questa macchina come vi ho detto al day one e la domanda che mi sono posto e quella che più mi avete posto voi è stata una. Questo schermino effettivamente cambia il modo di utilizzare la macchina? E la mia risposta è sì. Andiamo a vedere perché. Sicuramente è strano. La scelta strizza l'occhio a chi ama la fotografia analogica e vuole immergersi nello scatto senza i fronzoli del digitale. E per un purista digitale come me abituarsi effettivamente a guardare tutto attraverso il mirino senza poter utilizzare lo schermo, perché sì c'è, ma la gestualità che permette di tirarlo fuori è davvero scomoda. Non so se è per scelta di Fuji nell'obbligarci effettivamente a non utilizzarlo oppure perché è stato proprio pensato così. Sinceramente non mi è piaciuto, ma devo dire che tutto sommato dopo un po' di tempo la situazione migliora ed effettivamente impostato la review dal mirino non si fa quasi più caso al fatto che non si è controllata la foto dopo averla scattata. E parliamo proprio di questo schermino che così tanto caratterizza questa X-Pro3. Ha due principali modalità. La prima permette di visualizzare la simulazione pellicola di Fuji ricordando un po' il pezzo di cartone che si strappava dalla scatola dei rullini che si appiccicava dietro. È veramente molto carina l'idea, però effettivamente inutile perché visualizzi solamente la simulazione pellicola e obiettivamente chi se ne frega. Molto più utile invece è la seconda modalità, quella standard, che ci permette di vedere tutte le modalità di scatto che da spento ci fa visualizzare quanti scatti ci rimangono nella scheda e soprattutto che è completamente impostabile e programmabile tramite il menu Fuji. E qui ancora una volta il brand si dimostra leader in questo campo. Il problema però gigantesco di questo piccolo monitor è il fatto che non è retroilluminato e questa cosa atturba davvero molto specie quando si è al buio o in forte controluce perché effettivamente non si vede assolutamente nulla di quello che c'è scritto all'interno ed è un peccato. Credo che l'abbiano fatto per non aumentare la dimensione dello schermo però tuttavia è un problema perché diventa praticamente inutilizzabile durante ore con forte luce solare oppure di notte. Appurato questo la X-Pro3 è sicuramente una bella macchina. Esteticamente è davvero meravigliosa a mio avviso. Il design della serie Pro a me è sempre piaciuto anche di più di quello della XT per quanto mi riguarda è molto più squadrato, molto più bello, molto più vintage ancora. E questa nuova Pro 3 viene presentata in tre colori differenti la parte superiore e inferiore sono fatte di titanio un materiale super resistente, bellissimo al tatto è davvero davvero unico e soprattutto molto molto bello da vedere in una macchina che tendenzialmente si tiene tanto al collo e si usa. La X-Pro3 ti dà la sensazione di essere una macchina che ti porti volentieri anche in situazioni dove rischi di danneggiarla o graffiarla eccetera. Le colorazioni finali sono tre perché il trattamento sul titanio è differente mentre il primo è semplice e quindi senza resistenza a graffi ed abrasioni gli altri due sono fatte con un rivestimento Duratec che lo rende più resistente e duratura nel tempo anche se effettivamente è un magnete per impronte digitali. Il trattamento fa salire la camera a circa 200 euro in più rispetto al prezzo base ma chi sceglie un corpo del genere a mio avviso opterà proprio per questa finitura. Il corpo all'interno rimane comunque in lega di magnesio e tropicalizzato il che la rende veramente una macchina resistente e come ho detto prima regala una sensazione fantastica di durabilità e resistenza nel tempo davvero un feeling che non sentivo da tanto. Finendo con il design, rispetto alla X-Pro2 il grip è aumentato tuttavia non mi ha sorpreso e anche se è possibile acquistare grip esterni di Fuji e ne sono stati presentati due nuovi addirittura avrei fatto un lavoro migliore che sicuramente non avrebbe rovinato la bellezza della macchina né tantomeno la sua estetica ma sicuramente avrebbe migliorato decisamente la presa della macchina che così risulta non proprio avvolgente ecco. Il lavoro fatto da Fuji su questa macchina è notevole una camera che punta completamente al JPEG in un certo senso e che introduce una nuova simulazione pellicola la Classic Neg ispirata alla pellicola Superior 100 che mi piace davvero davvero tanto molto contrastata con dei betoni caldi e freddi state vedendo qualche immagine pura come uscita dalla macchina in questo momento mi è piaciuta davvero davvero tanto e spero che nei futuri update firmware possa arrivare anche sulle altre Fuji. Sono state aggiunte anche tante altre piccole chicche per chi ama avere il file già pronto dimensione e qualità della grana direttamente in camera controllo del bilanciamento del bianco di 10 gradi alla volta controllo della chiarezza aggiunta della curva tonale per controllare meglio il contrasto. Certo so benissimo che sono tutte cose che si possono fare in post ma X-Pro3 punta proprio a quelle persone che desiderano avere uno scatto già bello finito in macchina ovviamente senza nulla togliere perché potete con il doppio slot salvarvi su un JPEG sull'altra i RAW e avere ogni tipo di possibilità. Ma questo è l'intento di Fuji e questa politica dritta, differente dagli altri a me piace specie perché lasci comunque la scelta. In ogni caso ragazzi come sempre vi lascio in descrizione un po' di scatti in JPEG un po' di scatti in RAW che al momento ancora non riesco ad aprire e soprattutto se li condividete se li utilizzate e quant'altro taggatemi su Instagram chiocciola Simone Cioe Spostiamoci un attimo sul lato tecnico anche se punta ad un pubblico completamente diverso la X-Pro3 monta lo stesso sensore della T3 un retroilluminato da 26.1 megapixel X-Trans CMOS ma proprio perché il target è diverso non è possibile girare video superiori al 4K a 30 fps a 200 MBS e sinceramente non mi ha fatto venire alcuna voglia di girare video con questa macchina la possibilità comunque c'è e arriva fino a 120 fps in full HD tuttavia davvero è una macchina pensata per il lato fotografico e la voglia di fare video con questa è praticamente zero se il vostro intento è di fare filmati video e quant'altro la X-T3 rimane comunque la macchina migliore al momento per quanto riguarda Fuji tuttavia sul lato fotografico ragazzi l'esperienza è pazzesca il mirino rimane il caratteristico della serie Pro di Fuji ibrido sia telemetro con un angolo di visione di 27 mm veramente veramente molto bello tuttavia se non siete abituati a utilizzarlo fidatevi che praticamente non lo utilizzerete mai è davvero complesso riuscire a immaginarsi lo scatto guardando la realtà cioè nemmeno con il pentaprisma di una reflex proprio un buco effettivo dentro la macchina e Fuji comunque regala un'esperienza davvero ottima con tutti i dettagli a schermo possiamo vedere i tempi di scatto e quant'altro possiamo vedere l'angolo di visione abbiamo un magnifier digitale che ci permette di vedere se siamo a fuoco nella parte selezionata insomma l'esperienza è ottima ma se non siete abituati vi verrà comunque voglia di attivare subito il viewfinder elettronico che è stato decisamente migliorato molto molto bello molto molto fluido 100 fps quindi l'aggiornamento è super rapido la sensazione di immersività è migliore anche di quello della X-T3 mi è piaciuto davvero davvero tanto piccola nota bellissimo lo switch che ha mi ricorda tantissimo il sistema di carica delle macchine fotografiche analogiche è davvero una bella chicca che sulla macchina ci sta molto bene ed è soprattutto veramente molto facile da raggiungere con l'indice mi è piaciuto moltissimo parlando di messa a fuoco fantastica prende tantissimo ovviamente spunto dal lavoro fatto su X-T3 e GFX 100 tuttavia il modello che ho provato io ammetto che secondo me non aveva ancora un software 100% stabile e prima che la macchina esca sul mercato vedrà sicuramente un update firmware che ne migliorerà l'esperienza ma su questo Fuji è sempre stata leader e sono sicuro che non ci saranno problemi in futuro tuttavia mal in cuore sì lo switch per la messa a fuoco è tornato in quel punto maledetto che tanto odio so che per molti di voi non è un problema ma io avevo preferito decisamente quello della GFX 100 e anche qui il posto per metterlo lì c'era davvero un peccato a mio avviso la strada del medio formato mi era piaciuta tantissimo quindi Fuji non lo so magari sulla T4 o sulla H2 faccio un pensierino un pochino carente forse sotto l'aspetto porte esterne abbiamo solamente un SBC e un jack per il controllo remoto e del microfono tuttavia è un jack da due e mezzo quindi va montato un adattatore se vogliamo attaccarci un microfono esterno insomma diciamo che Fuji ha davvero dato un segnale forte per il quale non vuole che questa macchina venga utilizzata per il lato video ed è un peccato tendenzialmente per me è sempre un peccato non poter far scegliere come utilizzare la macchina tuttavia hanno messo il doppio slot e questa è una chicca che per me è fondamentale voglio concludere questo primo sguardo sottolineando nuovamente la piacevole sensazione di voglia di scattare che questa Pro 3 mi ha restituito in poche ore di utilizzo sicuramente ragazzi il lavoro che sta facendo Fujifilm per quanto riguarda le sue camere e tutta la differenzazione fra le sue serie è notevole è davvero davvero super apprezzato e probabilmente è uno dei pochi brand che sta cercando di scommettere così tanto nel differenziare una camera dall'altra questa nuova Pro 3 troverà sicuramente la sua nicca di appassionati che potrà nuovamente respirare il passato analogico con tutta l'innovazione digitale del brand Fuji sarà una macchina che saprà trovarsi un posto nel mercato un mercato che sicuramente va verso un appiattimento dei modelli e una differenza minima fra i vari brand salvo casi eccezionali e questa X Pro 3 è uno di quei casi eccezionali una macchina che fa tornare quella voglia di scattare senza se e senza ma ragazzi il video finisce qui è stato davvero davvero un piacere scattare con questa Pro 3 grazie a Fujifilm Italia per avermi invitato all'anteprima grazie a voi per aver seguito il video fin qui vi ricordo di guardare la descrizione per scaricare i file e trovare tutte le informazioni in più man mano che verranno aggiornate vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale attivare le campanelline seguirmi su Twitter, Instagram, Telegram la community di Videonauti che trovate su Facebook tutto quanto lo trovate come sempre in descrizione ragazzi grazie davvero a tutti per essere grati fin qui e noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti